Cari amici di esclusi, buonasera! Stasera è giovedì ed è giovedì santo e quindi vogliamo presentarvi un'iconografia cara a Firenze e alla Toscana che è l'iconografia legata allo spazio refettoriale dove avveniva la cena, chiamato Cenacolo. Abbiamo una tradizione molto lunga che va indietro ai primi Cenacoli realizzati da Taddeo Gaddi, per esempio, all'interno della chiesa di Santa Croce, del monastero di Santa Croce, dove appunto si rappresenta l'ultima cena alla base dell'albero della vera croce. Un'ultima cena che ricordava proprio il rito della cena, il momento in cui Gesù dirà agli apostoli che qualcuno tra di loro lo tradirà. Quindi l'iconografia raccontava attraverso appunto il pane, attraverso gli oggetti disposti e soprattutto dividendo lo spazio degli undici apostoli da una parte del tavolo, dall'altra parte del tavolo la figura del Giuda. Ricordiamo che la sera dell'ultima cena è il momento in cui si istituisce il sacramento dell'Eucarestia. E quindi l'immagine che doveva avere una comunicazione diretta e doveva raccontare, doveva avere una simbologia molto chiara per la lettura. A Firenze, nei dintorni, ci sono molti luoghi dove possiamo visitare i Cenacoli. Qui mi piace ricordare il Cenacolo di San Marco, Agni Santi, l'Abbadia Fiorentina, l'Abbadia Passignano. Ci sono davvero molti luoghi che sono delle gemme preziose da non mancare per chi viene a visitare Firenze. Stasera dal libro dedicato ai Cenacoli del 1997, scritto da Caterina Protopisani e da Cristina Cidini, vi presento il Cenacolo di San Salvi, dove voglio presentarvi subito, si vede anche in copertina, la grande arte, la grande bellezza della qualità pittorica di Andrea del Sarto, il pittore senza errori. Guardate già il volto di questo Cristo che è la figura centrale. Come si apriva questa composizione? La composizione di Andrea del Sarto, intanto vi faccio vedere che è un grandissimo affresco, la sala del refettorio è una sala solitamente rettangolare, molto lunga, e la lunetta si trova proprio in fondo, quindi stiamo parlando di una grande parete. E in questa grande parete Andrea lavora tra il 1511 e il 1527, riscuotendo una cifra incredibile di 38 fiorini, che questo Ilario Tascini aveva offerto per il convento in cambio anche di una donazione che ci sarebbe stata dopo, e questa donazione era di 500 fiorini d'oro. Quindi una cifra piuttosto bassa per un'opera così importante. Vi faccio vedere un dettaglio di questo affresco, perché è davvero bellissima la mano di Andrea, dove vedete che lui riprende l'iconografia di Leonardo, perché poi il Cenacolo diventerà famoso con il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, che Leonardo realizzerà a Milano. La figura del Cristo, la figura del Giuda, vedete, che è pronto a prendere il pane nella mano, Giovanni, guardate bellissimo il dettaglio della mano del Cristo sulla mano del giovane Giovanni, e poi appunto Pietro, l'incredulità di Santo Madro. Sono bellissime le figure rappresentate, dipinte da questo artista, in un momento, subito dopo al 1511, anni in cui Andrea andrà e tornerà per realizzare questa grande impresa. È il più grande Cenacolo che abbiamo a Firenze, il Cenacolo di Andrea del Sarto in San Salvi. Con questo vi saluto, questa è la scelta di Lucia per stasera, non mancherà l'occasione per visitarlo insieme, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo domani.